A volte non si deve reagire, dosare la forza e poi compire. C'è chi combatte un giorno per essere forte, un anno e diventi ancora più forte, ancora di più, ancora più forte. Però ci sono quelli che combattono tutta la vita. Loro sono i migliori. Dietro ogni colpo c'è una storia. Leone 1947 a Parella.